Il numero 68 Quel topo non sta molto bene È un topo È un topo È un topo avalato È un topo sacerdote È un sacertopo È vero? Mamma mia no Ti prego Un topo maniaco Scegli tu Numero 68 Ok Numero 68 No 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 69 69 Quindi numero 69 Maria Che da Baionetta 2 Interpreta Niente popo di meno che Baionetta Oh You could see me You're putting on quite a show Little magician Who the hell are you? I'm just an innocent little girl Lost in wonderland Suffering at the hands of the queen's trumped up troops It won, huh? Enough riddles How can you see me? Because we're both in purgatorio You see Purgatorio? I'm afraid I don't have time to dance too long A friend is waiting for me 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 Grazie.